Piloti storici del mondiale superbike, Pierfrancesco Chili, nato a Bologna il 20 giugno 1964 e secondo molti uno degli italiani migliori della storia della categoria. Dopo aver corso 9 anni nel moto mondiale ottenendo una medaglia di bronzo nel 1992 in 250, si trasferisce nella superbike. Qui diventa uno dei piloti simbolo della categoria e degli anni 90 in generale, indimenticabile i suoi lanci di guanti, tute e caschi a Monza e ancora di più indimenticabile l'intervista ad Assen dopo essere caduto all'ultima curva dove inveì contro Fogarty mentre era in accappatoio. Vinse 5 gare e ottenne 11 podi, ricordiamo tra queste gara 2 a Monza nel 96 dove ottenne una vittoria insperata all'ultimo dopo un'escursione alla variante della Roggia. Si ritirò nel 2006 diventando prima telecronista nel bienio 2008-2009 e poi direttore sportivo del team Guandalini.